alla scoperta insieme a voi insieme a Nautilus di tante storie compresa questa il movimento della rivoluzione ecologista e animalista e allora ci affacciamo dentro questo mondo mondo e movimento che mette assieme tra l'altro appunto due temi che apparentemente vengono separati solitamente vengono separati quello dell'ecologismo e quello dell'animalismo però effettivamente se c'è un essere vivente che sta in armonia con la natura questi non sono certo gli uomini ma gli animali che ci provano ancora perché poi se vai a chiedere ai cinghiali stanno meglio in città sì però questo proprio a causa dell'uomo parleremo di questo Gabriella Caramanica è la segretaria nazionale del movimento rivoluzione ecologista e animalista buonasera buonasera aspettate che adesso non era così prima eccoci adesso la riprendiamo la riprendiamo riprendiamo il collegamento skype si tramuterà di un fattezza umane il pallino vediamo vediamo va vabbè comunque ecco fammi una domanda cosa ne pensi beh tu sei come dire un canaro un canaro un canaro un canaro in tv non si dice ma vado dritto al pubblico il pubblico questo vuole la verità esatto allora intanto intanto voglio dire la sensibilità mi viene da dire un paio di domande a lui perché è l'essere meno credibile della storia non solo della televisione la storia umana del giornalismo dimmi allora intanto possiamo dire a proposito i cani c'è una mente esponenziale dei possessori di cani guarda in questi giorni tra l'altro perché è stagione quando arriva la primavera tutti si fanno il cuccioletto te lo dico perché comunque io a parte perché il momento migliore per prenderlo adesso no che lo porti fuori il tempo diventa migliore ma più che altro perché c'è questa attenzione no al vivere la natura e al farlo con un compagno si è questo sicuramente eh sì intanto chiediamo alla regia se non continuiamo io la segretaria se non intervisto morigi ma webcam spenta ma abbiamo avuto accesa abbiamo parlato amabilmente tutto ah beh allora comunichiamo con lei e facciamogli come dire provvedere al supporto tecnico ripristino di tutte le facoltà di scarpe veramente è stata con noi fino a tre secondi prima poi la gente non crede a quello che succede in televisione la webcam tra l'altro il tema dell'animalismo è venuto fuori anche durante la guerra in Ucraina che a volte capisco che può sembrare strano perché ecco un'altra cosa che esiste su questo tema è la contrapposizione tra diciamo esseri umani e animali no? Sì vabbè io quella non la tollero proprio Eh la classica polemica eh si pensa più agli animali che agli esseri umani ma secondo te adesso vi faccio questa provocazione è possibile che esista però a un certo punto in qualcuno questa distorsione cioè che ci sia un amore no ma c'è un amore ma maggiore nei confronti degli animali Cioè assolutamente ma guarda io ti dico una frase a cui sono veramente profondamente legato perché anch'io vivo il rapporto col mio cane come se fosse un rapporto padre figlio c'è una frase che secondo me sintetizza tutto benissimo ovvero tu non sarai mai propriamente mio figlio ma io sono stato tuo padre perché poi fondamentalmente li abbiamo accuditi quando stavano male hanno dormito con noi ma veramente da quando hanno tre mesi quindi il rapporto è quello poi è evidente che uno non lo può trattare come un figlio vero e proprio no? No però puoi mettere i figli al guinzaglio questo è Questo succede con più frequenza e meno sensi di colpa Esatto Allora segretaria è con noi Oh eccoci qua Buonasera di nuovo Buonasera a lei grazie Per gli inconvenienti tecnici No non si preoccupi Prego Siamo intrattenuti tra di noi intanto Abbiamo un po' fatto di Pss Ugualmente vi ho seguito ugualmente Bene abbiamo fatto un po' di psicoterapia a Morigi al rapporto con il suo cane Segretaria dicevo il mondo dell'ecologismo il mondo dell'animalismo viene non dico messo in contrapposizione questo no però separato Invece nel suo movimento le due cose stanno insieme perché? Sì vanno a braccetto perché ovviamente ecologia e animali vanno di pari passo come ecologia ed essere umano Certo E ma perché c'è anche la parola rivoluzione nel suo movimento? Allora rivoluzione è nata da una mia idea Rivoluzione è rivoluzione del sistema È un sistema che sono trent'anni che purtroppo penalizza altamente il mondo animale È un sistema che va abbattuto È un sistema che va modificato in tutti i sensi Quindi questo è l'obiettivo principale di rivoluzione ecologista animalista È questo Purtroppo gli animali sono oggetto di business, di malaffare Sono purtroppo oggetto di azioni criminali E qui il sistema va cambiato Va modificata l'attuale normativa Quello che noi abbiamo già fatto E stiamo aspettando che le forze in Parlamento lo prendano in considerazione Perché è stato dato veramente È stato ribaltato tutto E la cosa importante è che noi abbiamo Poiché comunque i reati di maltrattamento Vengono poco presi in considerazione Quindi con la non applicazione delle pene Le hanno inasprite Caramanica Mi perdoni l'interruzione Però da quello che so E io sono assolutamente favorevole da questo punto di vista Per l'inasprimento di alcuni reati che sono tali Sono efferati e non vanno sminuiti perché perpetrati sui cani Sui cani, sugli animali in generale No, no, sugli animali in generale Perché, le dico il mio punto di vista Qualsiasi uomo è in grado di operare una tale crudeltà, cattiveria, tortura Su qualsiasi altro essere animale È in grado di farlo con tutti e su tutti Questo io... Assolutamente sì Ma mi scusi, parte dall'educazione Che si dà ai bambini in famiglia L'amore per gli animali va insegnato ai bambini da piccoli L'irrispetto nei confronti degli animali va insegnato in famiglia Partono da lì Perché poi saranno i futuri criminali Perché vedo... Non proprio fisiologicamente, però c'è tanta possibilità Forse prevale in questo momento una concezione dell'animale come proprietà Come bene, come oggetto di proprietà Che come essere vivente Ma l'animale è un essere senziente a tutti gli effetti Quindi... No, no, certo, no, dico nell'approccio giuridico Forse prevale più questo... Probabilmente sì, sì Perché l'animale è pignorabile Quindi è un bene pignorabile Quindi è più che un oggetto E si combatte perché comunque agli animali Venga riconosciuto il loro diritto di essere senziente Ecco, però prima parlavamo del fatto che comunque c'è stato un aumento Proprio a livello numerico delle persone che in questo momento hanno un animale domestico Cani... Se ne vedono veramente tanti di più in una città come Roma Ma penso anche... Sì, perché l'animale... Mi scusi L'animale è diventato un membro della famiglia Quindi è come... Diciamo... È un membro della famiglia Nel vero senso della parola Quindi è chiaro che l'animale, essendo un essere senziente E quindi comunica con l'uomo in un certo modo È chiaro, è chiaro No, ma dico, voglio dire Questo comunque dal punto di vista numerico aumento delle persone che decidono di accudire Un animale domestico, cane e gatta che sia Non corrisponde ad un aumento della sensibilità in questo senso nella società? Sì, assolutamente sì Ma comunque tra le persone per bene c'è sempre la mela marcia Quindi abbiamo a un caso di tre giorni fa a Lecce Dove un gatto di quartiere è stato ucciso a pedate da un soggetto Però questa volta fortunatamente è stato ripreso dalle telecamere e quindi arrestato E questi sono casi rari però questi In cui sono sede per le vie giudiziarie in maniera così, diciamo, breve Perché molte volte questi casi restano irrisolti Non si trova il colpevole Ma perché non si trova il colpevole? Anche per umertà della gente Perché la gente non parla Non segnala Questo è il problema Sì, probabilmente perché viene considerato un atto di violenza di serie B Rispetto magari ad un atto Vabbè, a parte che non segnalano neanche quelli nei confronti degli esseri umani Perché c'è molta gente si volta all'altra parte Anche in questi casi Io invece volevo capire meglio Perché poi si rischia, come vedi, di accorpando due tematiche così importanti L'ecologia e gli animali Di dare poi la precedenza all'uno e all'altra Noi abbiamo parlato tanto di animali Ma la tutela dell'ambiente caramanica Quali sono le attenzioni in più che dobbiamo mettere Noi da privati cittadini ma anche le istituzioni Quello che ovviamente oggi non si fa Tenere l'ambiente pulito Quindi ci sono tanti modi per poterlo tenere pulito Quindi magari usiamo meno le autovetture con i gas di scarico Ci sono tante cose da fare Elementari poi Non parliamo di cose eccessive e difficili Cerchiamo un attimino di ridurre quelle che sono le esalazioni nocive per l'essere umano Assolutamente sì Però tutto può essere fatto e ogni cittadino può fare Può fare Ma se insieme possiamo fare molto Anche per esempio diciamo Vedo che a Roma Molti alberi vengono abbattuti continuamente Perché non c'è Quello che sono gli interventi Che vengono fatti Sulle piante Per la cura delle piante Attenzione E quindi pensano bene di tagliare gli alberi e buonanotte Per esempio ci sono i famosi pini del litorale di Ostia Lì sono aggrediti da un insetto che comunque li sta decimando E lì bisognerebbe Perché non dobbiamo Dobbiamo non avere il verde Il verde che comunque ci aiuta No perché non c'è Non sono attenzionati Non sono curati Non c'è cura Sì si sviluppa una specie di pragmatismo diciamo di scelte che portano Che faccio Vabbè a questo punto tolgo l'albero Sì 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 E facciamo Pragmatismo urbano proprio Però i problemi poi aumentano Quindi E l'ambiente ne risente Cara Manica io leggo Alle sue spalle Sul logo Partito politico Proprio per evitare qualsiasi diminuzione Non vi nascondete Esatto Volevo capire proprio questo La vostra struttura La possibilità di votarvi a una prossima tornata elettorale Mi spieghi Assolutamente Allora La rivoluzione ecologista animalista è un partito politico che io ho fondato io nel fine 2018 Diciamo che è un partito che mira alla tutela dei diritti degli animali a 360 gradi e alla tutela ovviamente dell'ambiente che va in sinergia con la difesa degli animali E' un partito politico a tutti gli effetti quindi normalmente costituito E' un partito che nelle ultime amministrative di Roma ha partecipato in coalizione con altri tre partiti Quindi ci riproponiamo comunque di partecipare anche alle prossime amministrative su alcuni comuni del Lazio In coalizione sempre E' un partito giovane Con idee nuove Una politica nuova Trasparente E fondata anche e soprattutto all'interno del partito Sulla meritocrazia Che non tutti i partiti usano E' importante far emergere figure che abbiano le capacità manifestino le loro capacità Io Diciamo che è un elemento che ho sempre voluto all'interno del partito Il partito è strutturato con un organigramma Che si trova su tutto il territorio nazionale Quindi noi su tutto il territorio nazionale abbiamo coordinamenti regionali, provinciali e comunali Senta Caramanica Roma per esempio Non so qual è la situazione in altre città Una città che si caratterizza per una presenza dei gatti randaggi Che insomma si trovano nei vari quartieri Non l'hai convinta secondo me Forse ho usato un termine che non è convinta Caramanica Ha fatto una smorfia che ha maggelato pure a me Esatto No, no, no Io sono una gattara, attenzione Tra virgolette Stavo per dirlo Ho avuto anche il cane per carità Ho toccato l'argomento Ha fatto un argomento che per me insomma è abbastanza Eh ma volevo capire qual è la situazione È affidata diciamo al vostro volontariato diciamo così No, 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 aspetta, aspetta Facciamo distinzione Noi siamo un partito politico Non siamo volontari No, 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 ma non diceva lei La tirava in ballo come gattara tra virgolette In generale È affidato al mondo dei gattari Gattari spieghiamo in termini romano I gattari sono Allora, innanzitutto bisogna riconoscere Fare il riconoscimento delle colonie feline Sì Innanzitutto E ad ogni colonia felina viene assegnato un tutor Il tutor che provvede al mantenimento della colonia felina Purtroppo E poi ovviamente in accordo con le ASL Alla sterilizzazione No, guardi che interessante perché noi immaginiamo semplicemente voi che scendete casa con il cibo Lo posate Questo perché tu non lo sai Scusate, stiamo qua per spiegare queste cose Mentre voi avete proprio un'organizzazione Non si limita a mettere la scatoletta Diciamo sul... No, no, no In strada Per dargli da mangiare No, no, no Le regole sono queste Poi ci sono persone che comunque Lo fanno così Sostengono gli animali volontariamente ed individualmente E lo fanno perché anche nel quartiere dove abito io ho scoperto che ci sono gatti che vengono accuditi giornalmente Da persone volontari Amanti dei gatti Certo, certo Sono stata anch'io una di quelle persone E che poi provvedono a proprie spese Alla sterilizzazione degli animali E questo l'ho fatto anch'io Quindi so bene Il meccanismo Mi sono accollata a tanti di quei gatti E fatta Tanti di quei gatti Ora mi trovo in una condizione In una posizione che non lo posso più fare Però l'ho fatto Però essenziale ed importante È fare il riconoscimento delle colonie feline Nella classe Questo richiedere il riconoscimento Io sto lottando in Calabria Per questo motivo Perché in Calabria non c'è una cultura Nei confronti degli animali E gli animali vengono maltrattati Non vengono seguiti Non vengono sterilizzati E chi più ne ha più ne metta Quindi E là ci stiamo impegnando soprattutto I sindaci Perché comunque ci sia Ci sia una Diciamo una responsabilità loro Perché la responsabilità di questi animali È dei sindaci È vero Ah ecco Il ruolo La prerogativa Diciamo amministrativa Delle competenze È quella dei Dei sindaci Ci sono le persone Che comunque Debbono tutelare gli animali Del proprio territorio Eh sì È vero È vero Io queste cose un po' Caramanica Le conosco Perché frequentando Una delle ville più grandi di Roma Ho l'occasione di Entrare in contatto Con chi Gestisce e monitora Appunto le colonie feline E figurati Pensa tu Questo poi La caramanica Me lo confermerà Il tutor No Evitiamo di chiamarlo Come prima Gattaro Li conosce tutti A memoria i gatti Ma sono 40 Se ne manca uno Viene denunciata La mancanza Di quel gatto Perché Magari Ha ingerito qualcosa Che l'ha fatto stare male Magari Ha un particolare patologia E la può passare Agli altri gatti Quindi È una cosa fatta Ma veramente scientificamente Non guarda così Come se Io non ti guardo così Volevo L'ho fatto una domanda Perché volevo capire Se era una cosa Semplicemente basata Sullo spontaneismo Quello capita nei quartieri Più Più nei quartieri O se c'era un'organizzazione Mi fa piacere Che ci sia un'organizzazione Dove Ti provvede Tra l'altro Sullo spontaneismo Io ho anche Una particolare Un particolare conflitto Perché il mio cane Caramanica Si ferma su queste Cartate di spaghetti E se le divora Ogni auto E quindi io entro Un po' in conflitto Con Il gattaro di Turo E che dico Portati via Fallo mangiare E poi porta via Quello che avanza No Ma assolutamente Il regolamento Dice questo Eh infatti Lo vede Bisogna lasciare Bisogna lasciare Che hanno contenuto Il cibo Tantomeno Il cibo È certo È la regola Allora È il comune Che dirama Questi regolamenti Io c'ho un'altra curiosità Non so se la sapete Voi che siete più competenti Di me Ma queste colonie Invece di Pappagallini verdi Che girano per Roma Ma si sa come si sono formate Che Perché improvvisamente Sono A presente Dottoressa Caramanica Di che Lei mi parla Dei pappagallini Io Nella Se lei mi parla Di pappagallini In alcune zone Di Roma Sì Ma non so Pappagallini So bestie De 15 chili Sono diventati Caramanica Tant'è che Si mangiano Tutto quello Che è più piccolo Di loro Compresi i canarini Non esiste più Un canarino Non esiste più Questo me l'avevano detto Ma eliminare I pappagallini No 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 Ma chi li vuole eliminare Noi prendiamo atto Che esistono Ma Sono scappati Dalle gabbie E si sono moltiplicati Uccide tutto quello Che è verde Ci sono anche I gabbiani Che sono molto Più grandi Assolutamente Ma pure più aggressivi Che sono più aggressivi Soprattutto Io sono in una zona Dove Vedo i gabbiani Non sono sul mare E non è vicino al mare E non è vicino al mare Diciamo a Roma Nessuno va più allo zoo Perché tanto Ormai La facci dalla finestra E vedi di tutto Va tutto Va bene Va bene No interessante Perché Soprattutto il tema Di questa conversazione È che Non è Non bisogna lasciare Al caso Semplicemente All'amore per gli animali Ci servono norme Regole Certezze Comportamenti Questa è la cosa importante No Soprattutto Sì Infatti Esatto In questo Noi Io ho voluto creare Un partito politico Proprio per agire In questo senso Perché le associazioni Hanno un loro ruolo Specifico Il partito politico Ne ha ben altro È chiaro Noi dobbiamo Lavorare sulle leggi Dobbiamo lavorare Sui comuni Dobbiamo intervenire Sui sindaci Che non osservano Le leggi E quant'altro Quindi queste sono E poi Soprattutto combattere Il business Questo È il mio Principale Bene È tutto difficile Mi creda È una strada Strada tortuosa Ma che io voglio Assolutamente Fino in fondo Beh allora Buon lavoro In bocca al lupo A Gabriella Si dice in bocca al lupo Viva Viva il lupo Scusate No però Viva il lupo Però mi hanno spiegato Che si dice in bocca al lupo Lo sai perché? Perché il lupo Protegge i propri cuccioli Una la sai allora Brava Mettendoseli in bocca Quindi è il luogo Più Più caro È questo il significato È indovinato Una cosa la saputa Ho letta Ho letta Non ho indovinato Ho letta Scherzo La rivendica Grazie Gabriella Gabriella Caramanica Gabriella Caramanica Segretaria Grazie Grazie per l'ospitalità No grazie a lei Arrivederci E a risentirci Per toccare Questi Questi temi Poi devi spiegare Questo tuo odio Per i pappagallini verdi Non li odio Li avevo pure Pensa ne avevo due Un maschio e una femmina Sansone e Dalila Eh lo so Mi sono Mi scappavano Costantemente È incredibile Infatti adesso Saranno sul ponte Dell'arcobaleno Va bene Come vedete Questo è il primo programma Condotto da uno scappato Da un TSO Però ci siamo riusciti Devo dire Potete farcela tutti Potete farcela tutti A presentare Nautilus Di Nautilus Ringraziamo L'uomo che sbaglia I sottopancia Gabriele Fiorcina In regia All'angolo destro Grazie Grazie Manuele Per i tuoi errori Nei sottopancia Famosissimo Che ci fanno Litigare con gli ospiti Grazie veramente A tutti voi Per aver seguito La puntata odierna Di Nautilus Ti troviamo Venerdì prossimo Facciate Instagram Per salutare Beh È stupendo 12.000 euro Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.